e lì sai perché perché sono andati avanti sono andati fino a quasi all'abazzia ma dove cazzo andate io ho detto come vai l'aspetto abbia scosso e poi fa questo che andai giù arrivi lì e chi è più e poi il c'è famiglia di fare la seconda strada e difatti hai visto come si ma questo mi è piaciuto a ciò un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.